e quindi anche facendo emergere delle criticità. Uno di queste è sicuramente il fattore umano e anche su questo tema volevo coinvolgere il dottor Federico Filacchione, responsabile Sogei, che ringrazio per aver voluto partecipare ed essere qui a Bari. Grazie, grazie dell'invito. Io sono responsabile del CERT di Sogei, che è il team che si occupa di risposta agli incidenti, quindi è un po' quello che vengono chiamati quando succede qualcosa di brutto. Devo dire che capisco il dottor Mega quando parla di problematiche derivate da incapacità di capire cosa si ha di fronte. Infatti noi come struttura, oltre a risolvere tali tipi di problematiche, puntiamo molto anche sulla parte di formazione e di consapevolezza. Ed è una cosa a cui abbiamo puntato subito, non tanto come attività parallela, ma proprio come attività principale, cioè di formare gli utenti. Noi serviamo circa 80.000 utenti dell'amministrazione finanziaria, quindi l'amministrazione finanziaria, agenzie fiscali. Quindi c'è grande diversità anche negli operatori, anche nella tipologia del lavoro svolto e nell'approccio con gli strumenti che comunque si sta andando avanti e si sta digitalizzando sempre di più. Abbiamo puntato da subito sull'attività di formazione, ma soprattutto puntando ad un aspetto non tanto quello di dire che stai sbagliando, ma proprio un percorso di educazione, nel senso di far comprendere che anche una semplice email, che può essere il concorso che ti installa qualcosa di sgradevole, che può essere anche una minaccia molto più grave, debba essere analizzata anche brevemente, ma comunque nel dubbio debba essere segnalata. Quindi io quello che posso portare come nostra best practice è quella di aver istituito appunto un centro, che è quello del CERT, che è aperto a tutti veramente. Cioè noi riceviamo, diciamo agli utenti, ai colleghi, ma anche agli utenti dell'amministrazione, di inoltrarci, di telefonarci, di mandarci anche il trecentesimo spam che hai vinto il telefonino, che hai l'account gratuito per Netflix per i prossimi tre anni. Però, perché da quello, anche da una cosa minima, può nascere una problematica più grande. Noi abbiamo visto qualche anno fa, quando ci fu quella campagna di spyware su alcune personalità pubbliche, che era nata dal basso, quindi diciamo una cosa artigianale, però fu scoperta grazie a un dirigente di un grande ente pubblico che disse, ma a me questa mail mi sembra strana, ma andiamola alla polizia postale. Quindi è venuto un dubbio a qualcuno che è anche, diciamo, di vello alto, quindi non tanto tecnico. Noi siamo appunto, abbiamo nel tempo, in pochi anni, di cui è stato istituto il certo G, ma comunque sono ormai già quattro, abbiamo avuto grandi riscontri dal mettere a disposizione appunto un centro che riesca a raccogliere questa informazione e dare una risposta all'utente, perché poi anche quello è importante. Non è soltanto inoltre al gruppo che poi noi, comunque ogni utente ci segnala qualcosa e gli rispondiamo, dicendogli che magari non è niente, è soltanto spammo, magari a certe volte anche gli cittadini che sono abbastanza vementi nella protesta, però, oppure quando c'è un problema diciamo, ok, il problema è stato analizzato e prenderemo le apposite contromisure, quindi anche agendo un po' come, facendo agire gli utenti come sentinelle per poi bloccare in seguito quello che potrebbe succedere. Quindi mi ricollego anche a quello che ha detto il dottor Pateroni Griffi prima del telefonino, quello è un grande segno di awareness, cioè di dire, io mi prendo un vecchio Nokia aggiornato ovviamente di dieci anni fa, che non ha Whatsapp, non ha niente, perché so che sono più protetto rispetto ad altre caratteristiche. Ovvio non deve scadere una paranoia, perché per carità tutte le strutture e gli strumenti che abbiamo a disposizione vanno usati, però avere un sano dubbio per noi è una cosa positiva, avere un approccio critico in verso quello che sta facendo è una cosa positiva e soprattutto appunto la parte di formazione è sempre importante e va portata avanti anche con un approccio collaborativo. Noi abbiamo per esempio recentemente avviato un'attività di formazione di awareness di cyber security su tutti i colleghi, quindi soltanto su di noi, poi estenderemo anche l'amministrazione, anche con campagne di phishing simulato. Quindi con i colleghi di posta elettronica abbiamo mandato creata, fatta bene, e devo dire qualcuno ci ha chiascato, gli compariva una schermata dicendo vatti a rifare il corso perché mi sa. Però molti ce l'hanno reinviata, quindi abbiamo avuto un feedback molto positivo dal fatto che molti colleghi hanno detto che questa mail non mi piace molto, gli puoi dare un'occhiata. Quindi c'è di tornare indietro chiudendo un cerchio che mi fa capire che insomma c'è un certo livello di consapevolezza su questo punto. Per fare una piccolissima nota finale, poi cercando di parlare delle cose parallele a un po' alla tecnologia, per noi è importante anche la parte umana relativa agli attacchi umani. Quindi è vero che Sogei ha una grandissima base dati, ma noi abbiamo nel tempo sempre strutturato, fin da quando è stata costruita l'azienda, un sistema di sicurezza fisica molto efficiente. Perché spesso si dimentica, parliamo di big data, parliamo di grandi algoritmi, poi magari soprattutto purtroppo in certe pubbliche amministrazioni troviamo il server che sta lì nella stanza, che la chiave è attaccata perché tanto poi magari l'addetto non c'è, e chiunque entra e ci mette mano, sappiamo che non c'è hacker migliore di quello che riesce a toccare un computer, che lì non c'è un sistema di sicurezza che tenga. Quindi anche su quello ovvio che cambiano le tecnologie, il cloud porta a tante sfide, e ce ne risolve anche diverse, magari anche dal punto di vista dei data center dispersi. Però ecco, questo è anche un tema che la pubblica amministrazione deve affrontare, che l'Agit sta affrontando anche con le linee guida, perché ovviamente il proliferare di data center all'interno delle PIA, sia centrali che locali, è un problema principalmente di sicurezza del dato, ma anche di sicurezza degli apparati, quindi dei servizi che vengono erogati. E quindi anche questo doppio aspetto un po' della sicurezza del dato umano, sia dell'operatore o comunque dell'utente che deve capire cosa fa e porsi un dubbio, che è sempre buona cosa, e sia anche poi quello della reale protezione dell'asset, non tanto da continuare a comprare tecnologia da tecnologia, quando poi appunto magari il server sta in questa stanzetta qua dietro, che c'è una porta che non si apre con una spinta. Grazie. Grazie. Grazie.